Allora Mario, da cosa cominciamo questa settimana? Ma guarda, sarebbe fin troppo facile cominciare dai dati su attivazioni e cessazioni di contratti di lavoro che hanno mostrato a gennaio che c'è stato un significativo calo su base tendenziale, questo è un dato che tutti ci aspettiamo, quindi non lo enfatizzerò più di tanto perché sennò sembra che sto facendo della speculazione minuta e vorrei cercare nei limiti del possibile di volare un po' più alto, se posso dire una mia valutazione di sintesi estrema, la creazione di occupazione procederà in linea nel medio termine con la crescita del PIL, al netto di eventuali recuperi di produttività di sistema, cosa vuole dire? che nel 2015 abbiamo avuto una creazione di occupazione in termini di unità di lavoro equivalente che ha ecceduto la crescita del PIL, nel 2016 mi attendo che questo squilibrio si normalizzi e la creazione di occupazione torni in linea, quindi di questo parleremo, non c'è stato nessun miracolo da Jobs Act, il problema di quanto costa il costo del lavoro a partire dal 1 gennaio 2018, quando torneremo in mare aperto, non avremo più sussidi, servirà una decontribuzione strutturale perché altrimenti avremo una strage di posti di lavoro divenuti improvvisamente troppo cari e che molti imprenditori non potranno permettersi, ebbene quel punto resta assolutamente e inequivocabilmente sul tavolo. Per cui di questo parleremo, voi potete dire che siamo gufi, ma questo è un dato e un vincolo di realtà, sono numeri, sono le cosiddette leggi dell'economia, per cui da lì non si scappa, a meno di dire, come abbiamo ripetuto almeno da un anno a questa parte, che in questo paese la produttività è una variabile indipendente e che noi possiamo creare molta più occupazione di quanto riusciamo a far crescere il PIL. Allora in quel caso, così come un tempo negli anni gloriosi del pansindacalismo ad essere variabile indipendente era il salario, adesso ad essere variabile indipendente sarà la produttività, però le cose non funzionano in questi termini e quindi io chiederei a me stesso una sorta di moratoria su questa polemica spizzola, ma io la chiedo a me stesso nel senso che posso anche astenermi, nel senso che posso parlarne molto meno, ma vedremo come andrà a finire, purtroppo l'epoca che stiamo vivendo verrà ricordata tra qualche anno come una folle ubriacatura mediatica e di spin propagandistico sul nulla. Ricordiamo anche che il buon Renzi sta negoziando in questo momento con la Commissione europea per avere quegli stessi margini di deficit che gli serviranno per la sua nutrita agenda di riduzioni di imposte che vuole fare e di quelle che vuole mantenere in essere, come ad esempio gli 80 Euro. Il punto è semplicemente quello, cioè è stato fatto deficit di qualità scadente negli ultimi due anni, ora dobbiamo mettere una pezza pregando che la congiuntura regga. Poi dopo parlerai e parleremo delle previsioni di Confcommercio sul PIL, io vorrei fare solo una piccolissima osservazione, questo non me ne voglia nessuno, né il Dottor Bella, nessuno di Confcommercio, ma io ho come l'impressione che ogni volta che Confcommercio cerca di chiedere a Renzi e al Governo una riduzione della pressione fiscale, offra oro, incenso, mirra e pensioni di FIL mirabolanti a Renzi medesimo. Ma questo lo vedremo con loro tra... Esatto, per cui guarda, però siccome io sono cinico e ho anche un filo stronzo, questa cosa mi vuole leggerla in filigrana. Va bene. Senti, io volevo dirti che volevo approfittarne che punto è la crisi e soprattutto il punto sui conti per fare il dettaglio di un approfondimento che ho fatto come credo che dobbiamo fare noi appunto su questo stesso spirito a proposito della frase ripronunciata qua la dottore Fada, il ministro dell'economia Padovan, rilanciata da tutti i giornali, che ha detto, beh ragazzi, spendi review e basta, chiederci tagli alla spesa, ma abbiamo fatto 25 miliardi di euro di tagli, è difficile procedere oltre e non ce lo dovete chiedere. Allora, io invito tutti gli ascoltatori su questa polemica dei 25 miliardi che il Governo dice, sta citando qualunque altra richiesta di tagli di spesa, abbiamo bisogno di più deficit, pensate che stiamo trattando anche dopo l'accordo con la Turchia di ieri, di cui ho parlato ieri in trasmissione e che credo non funzionerà, stiamo parlando di un'altra clausola aggiuntiva di flessibilità ancora per l'Italia dopo l'accordo con la Turchia. Però, detto questo, io vi invito davvero ad andare sul sito del MEF e troverete, se fate la ricerca, mettete semplicemente 25 miliardi di tagli, uscirà fuori il documento del MEF in cui vengono precisate l'entità di questi fantomatici 25 miliardi di euro tagliati nel 2016, grazie all'iniziativa 2014-2015 e alla legge di stabilità per il 2016. Troverete il seguente virgolettato. Essi hanno consentito di finanziare alcune delle misure a sostegno della crescita e dell'occupazione e un'ampia riqualificazione della spesa. È il dettaglio della spiegazione del MEF, cioè c'è scritto che i famosi tagli di spesa sono spesa in altre poste, cioè non sono tagli di spesa. Troverete nello stesso documento, per l'anno 2016, tutti i documenti che trovate sul portale del MEF, indicato il riepilogo esplicito del tagli di spesa 2016. Vado a leggere il virgolettato. Variazione netta delle spese per l'anno 2016, 360 milioni di euro, di cui 41 di spesa corrente, 319 in conto capitale. Questa è la sintesi sul portale del MEF dei famosi 25 miliardi di euro di tagli di spesa pubblica, oltre la quale non si può andare. Cosa è successo negli altri paesi? Andiamo a ricordarcelo. Negli ultimi 5 anni, nel Regno Unito la spesa pubblica è passata dal 48,8 al 43% del PIL. Nella Spagna dal 46 al 43,3%. Nell'Irlanda, udite, udite, dal 47,2, l'esplosione della spesa pubblica dopo la crisi delle banche, al 35,9%. L'Inghilterra cresce del 2,3%, la Spagna cresce del 3,2%, l'Irlanda del 6,9%. Noi che non abbiamo fatto i famosi 25 miliardi, come dice il documento del MEF, perché nel 2016 il totale è 360 milioni, di cui 41 di spesa corrente, 319 di tagli di investimenti in conto capitale, quindi noi cresciamo dallo 0,1%. Queste sono le cifre ufficiali del MEF. Io le riporto a tutti, perché secondo me questo dovremmo fare noi per informare l'opinione pubblica. Non semplicemente ridanciare il ministro che dice 25 miliardi, perché questi sono i documenti ufficiali, loro, che dicono che è una palla politica. Aggiungo che mi dispiace, perché ho grande stima per il ministro Pado, a vedere che ormai è diventato un politico vero, inizia anche lui, a parlare di cifre a piacimento per così dire.